Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano, nuova fase di maltempo in vista per l'Italia con una vasta perturbazione atlantica che man mano si sta avvicinando sempre più all'Europa e alla nostra penisola. I primi effetti di tale peggioramento si inizieranno a sentire giovedì 29 marzo con piogge e rovesci intensi che interesseranno specie le regioni settentrionali. La neve tornerà a cadere sulle Alpi ma a quote generalmente medio-alte. Il maltempo si intensificherà ancora di più venerdì con le precipitazioni che interesseranno soprattutto il nord Italia e il Tirreno. I fenomeni più intensi sono attesi soprattutto sulle aree alpine e prealpine come sulla Toscana con la neve che potrà cadere abbondantemente a quote medie sui rilievi. I modelli poi sono sempre più concordi nel mostrare anche una prima parte del weekend pasquale segnata dal maltempo. Tabato, le regioni settentrionali e tutte quelle tirreniche dovranno fare i conti con piogge, rovesce e neve prima di un possibile miglioramento in vista di domenica, comunque da confermare. Seguite dunque tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito sia sul nostro canale YouTube con tutte le ultime news sul tempo per la prossima Pasqua. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.